Crisi idrica a Trapani. Assessore, cosa sta succedendo? Allora, per quanto riguarda il problema idrico che in questi giorni stiamo affrontando, già la cittadinanza è informata. In primis abbiamo avuto questa benedetta, maledetta rottura del 30 di gennaio che ha coinvolto praticamente 100 metri di tubazione e che nell'affidare i lavori all'impresa, giustamente per sostituire questo tubo da 800, bisogna attendere che venga prodotto. Cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso per ottemperare questo problema di sostituirlo con la costruzione di un bypass. Siamo riusciti giorni fa, sabato, a montarlo e per un problema tecnico ha ceduto e quindi abbiamo dovuto subito interrompere l'erogazione che porta l'acqua da Bresciana a San Giovannello. È successo pure che contemporaneamente al problema che abbiamo avuto a Bresciana, Sicilia Acque, che ci fornisce il 50% della fornitura, ha diminuito anche lì la portata. In deroga noi abbiamo avuto fino al 16 un aumento della portata che ci ha permesso di dare, di razionalizzare l'acqua con i turni, quelli che sono ben noti, cioè ogni tre giorni, ogni quattro giorni per fare un giorno di accumulo. Il giorno 16 viene superata questa soglia della fornitura e viene drasticamente ridotta da 115 e 50 litri. Quindi potete ben capire che la portata d'acqua che arriva a San Giovannello si è letteralmente dimezzata, quindi abbiamo avuto serie difficoltà. Cosa è stata la scelta? Siamo ritornati di nuovo alla carica sia con Sicilia Acque che con l'autorità di Bacino e siamo riusciti in questi ultimi due giorni ad avere un altro incremento per cercare di risolvere un po' i problemi. Cosa è successo? Che la domenica avevamo soltanto il serbatoio di Martogna già predisposto per l'erogazione e abbiamo deciso di fare un comunicato e dare intanto l'acqua alla zona del cimitero, per intenderci. Contemporaneamente all'aumento della portata da parte sicilia siamo riusciti ad arrivare a un livello soddisfacente per poter erogare anche tutto il resto di Trapani Nuova. Però c'è da dire che ieri sono stati dei problemi in alcune zone perché venivamo da tre giorni più la mattina di consumo d'acqua. Quindi verosimilmente le cisterne erano vuote quindi si sono riempiti più dell'80% dei cittadini a preso l'acqua purtroppo quel 20% fra cui ci sono pure io in questo 20% non siamo riusciti a prendere l'acqua. non siamo riusciti a prendere l'acqua.